Lei è straordinario da rimediti alla società, ma io dico che è suo, è tanto suo, è tanto suo. Era una stagione rischiosa questa, ricca ma rischiosa, e c'è tantissimo di suo in questo scudetto. Grazie per i comprensimi, però credo che alla fine i ragazzi abbiamo fatto tantissimo, hanno fatto tutto. La società mi ha messo a disposizione una squadra importante. I ragazzi sono stati bravi ad accettare spesso le mie decisioni, sempre le mie decisioni. Purtroppo sono rimasti i giocatori fuori che hanno fatto la storia del Milan. La dimostrazione è che stasera il gruppo era unito, ma siamo tutti a Roma, cerca di festeggiare tutti insieme. Dieci ragazzi hanno dovuto andare in tribuna e questo è quello che sia la forza, è stata la forza quest'anno in questa squadra. Ha fatto lei uno splendido giro della curva, ha dato il 5 a tutti ed è diventato Massimo, non era più Massimiliano. Massimo, Massimo. Stasera è entrato nel cuore di tanti, tanti milioni di tifosi, mister. Per me è una soddisfazione enorme perché credo al primo anno arrivare al Milan e riuscire a vincere il suo scudetto. Credo che forse non mi sto neanche rendendo conto, però è una cosa bella, diventerà bellissima credo da domani. Quindi devo ringraziare tutti, dai tifosi, dal presidente in primis che mi ha scelto, che mi ha messo a disposizione questa squadra, dai Galliani, da tutti quelli che hanno lavorato con me tutto l'anno e dai tifosi. È duro il campionato italiano, mister. Quante volte l'abbiamo dovuto vincere? Quante volte si è sentito dire nelle conferenze stampa partita decisiva, partita della vita, un'infinità? Eh, ma è così, però credo che il derby e la partita di Firenze siano state le partite che ci hanno dato per vincere lo scudetto. Io ero convinto anche prima del derby che arrivassimo in fondo, sicuramente non era un momento facile, però la squadra ha dato dimostrazione della forza e quindi non per caso credo che siamo da 26-27 giornate in testa del campionato e più di così credo che questi ragazzi non potessero fare. Stasera, mister, primo tempo era uno 0-0, mezzo e mezzo, nel secondo tempo uno 0-0 imposto da noi, da una grande prestazione? Ma nel secondo tempo la squadra ha fatto una grande prestazione, dimostrazione che nel primo tempo abbiamo un po' cazzeggiato e nel secondo tempo abbiamo giocato bene. Che cosa sta provando? Ce lo riesci a descrivere? È difficile, è una soddisfazione immensa. Credo che domani sicuramente me ne renderò ancora di più conto. Grazie mister, tanti tanti complimenti.